La tecnologia parte in quest'istante, ricordiamo come 2DX World, 3DX, quindi avremo una giornata per poter decretare poi chi vince da questa meravigliosa tappa, la manifestazione che ormai è arrivata, come dire, a un punto che sicuramente... Stare con i nostri amici qui a Campo Reale, penso che sta partendo... 28, Bustacchia Pato, 28 Controllo Tiro Il 29 Coniglio Giorgio e poi Messina Littorio Controllo Tiro Controllo Tiro Bravo, sono l'aria Grazie 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 a tutti. 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 Grazie a tutti.